Sono venuta qui perché pensavo di poter dare agli altri qualcosa, invece ho capito che invece sono gli altri le persone che sono qui che hanno dato molto. Mi sono ritrovata di fronte a una verità che non avevo mai. Questa è la sua casa, non è la nostra, è solo così ti possono accettare, ma sicuramente lo fanno. Quando sei a casa pensi e dici mi mancano, mi mancano tantissimo, praticamente è il proseguimento della tua famiglia. Cotto Lengo mi ha insegnato il valore soprattutto della vita che è la cosa più importante, non disprezzarla, non odiarla, ma soprattutto amarla. Allora da lì se tu ami la vita, allora poi piano piano riesci ad andare avanti, invece se tu odi la vita non ce la farai poi mai. Avevo fame e mi avete dato da mangiare. Avevo sete e mi avete dato da bere. Ero nudo e mi avete vestito. Ero ammalato e in carcere. Ero ammalato e in carcere. E siete venuti a trovarmi. Ero forestiero e mi avete ospitato. Ogni volta che avete fatto tutto questo a chi è nel bisogno, l'avete fatto a me. Grazie a tutti. Grazie a tutti.